Soleil durante una chiacchierata con Davide in veranda rivela un fatto accaduto durante il periodo di fidanzamento con Giammaria. Davide infatti le chiede. Ma tu quanto tempo sei stata fidanzata con Giammaria? Soleil risponde in modo superficiale come se fosse stata una cosa di poco conto. Io con Giammaria sono stata qualche mese. Un tira e molla. E poi? Quando mi vedevo con Giammaria frequentavo un'altra persona. Quindi non c'è mai stato nulla di serio tra me e Giammaria. Davide resta attonito mentre alle spalle di Soleil c'è Alex Belli che si gode il racconto di Soleil. Un'altra pugnalata a Giammaria del trio capitanato da Alex Belli. Soleil che sferra gli attacchi appoggiati moralmente da Davide che però resta piuttosto neutrale. Soleil con quella frase ha voluto dare un segnale ad Alex quasi a voler giustificare il fatto che è stata con Giammaria quasi per errore. Canale YouTube Fabio Pecce.